Bernazzoli, dal 1949 a Genova a San Fruttuoso, in via Giovanni Torti 70 Rosso. Piccoli elettrodomestici, articoli regalo per la casa delle migliori marche e liste nozze. Regala, tunna, un sentimento, un'emozione. Tunna, il bello dei sogni, che diventano realtà. Bernazzoli, a Genova a San Fruttuoso, vi aspetta. Grazie a tutti.